Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova Lucky Race con che noia Io sono Marci E Gabri Ciao Gabri Ciao Gabri Gabri Senza la vedete Gabri Lo sapete chi è Gabri? Scrivete nei commenti chi è Gabri se avete capito che cosa è Ora scrivo proprio letteralmente chi è Gabri Oh donna la simpatia che bello Comunque ragazzi in questa Lucky Race ci switcheremo i colori soliti Faremo una cosa inedita E dato che nell'altra vi avevo posto il quesito su chi doveva perdere E avete detto giustamente Martina Io non ho le prove di tutto ciò Cioè nei commenti sono le prove E dato che non si è fatta nessuna penitenza la penitenza sarà messa oggi Vale a dire all'arrivo Martina perderà una posizione Quindi se arriva prima andrà a seconda Se arriva a seconda andrà a terza Se arriva a terza avrà fatto proprio uno schifo E poi chi perderà questa Lucky Race dovrà fare una penitenza scrivere nei commenti Io sono l'anello debole delle Lucky Race Ah pensavo io sono Legenda Così è una missione di colpa Va bene? Va bene Sè io faccio il blu Sè Comunque ragazzi vi do un attimino per prepararvi tutti i blocchi e tutto quello che dovete Per davvero Per davvero Per davvero Siete pronti per davvero Sì sono pronta Andate sul quadratino centrale 3 2 1 E si va Yeeey Si vola Sì siamo partiti Yeah Datevi un piccone belli No Per ora due neutri Vabbè grazie Grande l'incudine Ma no raga non c'è la Keep Inventory Ah giusto fermi tutti Fermi tutti Game Rule Keep Inventory True Ok abbiamo fixato Dai lo slime block però Ti tiro l'acqua No raga Eh mo c'è uno slime block in mezzo Non posso passare Oh che bello questo piccone Slime te ne devi andare Perché Oddio fammi passare Ok sono passato Problema Ma perché non l'hai ucciso scusami Ma chi lo uccide a mani nude Secondo te Ma basta Eh no no niente Cos'è sta roba Unbreaking Io aprirò i lucky block con la canna da pesca Ho trovato un uovo di drago raga Utile grazie Anche io prima l'ho trovato No Eh slash kill Ma è possibile che a me No mi toccare Io Io No raga Io sono lo su C'è ragazzi Ma che stai dicendo Ma che problemi hai Ma te lo stare zitto Problemi mentali Problemi mentali tu Comunque raga se arriva prima Martina E se la cava E se la cava è una meme assurda Eh fatemi vincere dai Se ci pensate Non lo so potrebbe essere un trip interessante però non ti faccio vincere No 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 c'è un creeper charged schifo merda Anch'io becca Ma che conno i guardiani Nooo Ed è qui La restrizione Si perde Ho schivato due charged creeper Che tra l'altro sono rimaste nella lane E poi esplodo Perché un coso dice Tu devi esplodere Che noi è stata slinata da un cubo di magma Eh vabbè adesso mi spuri i vis Guarda Mi spuri che cosa hai detto Mi sembrava un dialetto strano Non ho capito Lui è diventato Sta eseguendo tipici canti indiani No Hawaiani Hawaiani Raga ma Qualcuno vuole mettere la luce del sole Varebbe utile No ma qualcuno mi può dire Perché sono sempre No c'è un gigante No 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 Una cosa che voglio dire Se qua morite Sì sì se muori devi ricominciare Uh un enderpearl L'enderpearl la voglio Grazie zì Sì cosa te ne fai del enderpearl su sta mappa No raga la TNT di nuovo Cosa me ne faccio Per esempio salto tutta la lava qui Che mi rompe le balle E' l'onesto E' lì No il killer bunny No raga il lucky block è gigante Me ne sono capitati due di fila C'era la TNT infatti Vedi che cosa mi servono le enderpearl Perché non ho più la lane Ecco che cosa mi serve Quindi tippati Io vado a prendere il checkpoint Come sempre E dopo torno indietro Perché Non ho più la lane Quindi cioè O faccio così O praticamente Eh non ho più la lane Quindi lo facevo così Oh piccone Sì Sì Raga Il piccone dono Ora si vola Io di ferro Così non si rompe subito Eh vabbè Però la dono ci sta Altre enderpearl Vai così Vai così che dobbiamo volare Fino alla fine No vabbè Raga io sono indietrissimo Ormai ho già perso Raga No Guarda che cosa mi servono le enderpearl Va che figata Zac Fuori dalla trappola E siamo salvi Anch'io La trappola Mamma mia che top Guarda come gli shotti Che bello shottarli Raga ho ucciso il killer bunny Sono felice Sembra il burro Una spada Una spada finalmente Grazie Raga un'altra trappola Io non ho ancora il checkpoint Considerato Di ossidiana Ma come non ho ancora il checkpoint No io continuo a morire Tina deve No no li tieni No L'ossidiana L'ossidiana Parami Parami Mamma mia No il wither Raga Il wither no però Ma qua c'è il labirinto Che non so fare Basta ste trappole Io l'ho superato il labirinto Sto cercando di andare Verso le scale Raga io non sono neanche Al checkpoint No morto Io non sono neanche Al checkpoint Raga io sono di lontanissima Al checkpoint Vedo il wither In questo momento Ma sai che io non so Dove devo andare raga Devi andare dalla parte opposta Ok Dalle pulsanti Sarola Dai che morire qui Vuol dire rifare Un casino di strada No raga Eh vedi Ma è morto anche Marci Almeno quello Cioè praticamente Ti devi rifare Un chilometro Di lei No raga Mi sa che Stato il wither Devo ucciderlo Ok Meno male Io l'avevo balzato Cioè il wither Era È dietro il checkpoint Oh raga Sono arrivato al checkpoint Mamma mia Tina ci agito Grazie Qua in realtà Basta che muori una volta Devi farti Davvero due minuti Di strada Come quello che ti succederà Adesso Sino Eh mi hanno appena avvelenato Guarda Sei un fetente sei No dai Devo fare sta schifta Sei un fetente Mi sparo Mi sono sparato Tutte le pozioni Fortunate che avevo Per darmi effetti positivi No mi seguire Brutta magiera Ma cosa vuoi dalla mia vita Qua dai Raga Perché è nella mia Toglilo il wither Metti in peaceful Raga vedo il finale Vedo il finale Che bello Tina deve fare la challenge Se vinco Tina ha perso Eh vabbè Ragazzi è scritto È scritto nelle stelle Il codice delle stelle C'è scritto Raga Ne manca uno Last block Ok Stiamo volando In questa scalinata 130 Nella key race Si va Mamma mia Ma stai chiesto Sta partita Ho avuto una fortuna Atroce Ma mai contro Martino Bene Adesso viene a spettare Ci sei arrivata Qui era in blaze Che noia Ha spawnato Dalle TNT Poi il killer bunny E lo slime Di fila Martino Sai cos'è Sai cos'è la cosa divertente Che abbiamo voluto Switchare le lane Avete avuto questa brillante idea Il rosso sarebbe stato mio È così Marci Spacca l'ultimo blocco Che non dà niente Pensa era vuoto Talmente fortunato Ha le pozioni Le leather tunic Ah ok va bene E Marci va Ma si doveva arrivare Alla fine io Eh sì Eh sì Perlomeno diciamo Che la penitenza Dell'altra volta Non ha contribuito Sul risultato Perché tecnicamente Martina arriva a quarta Su tre partecipanti Io controllo Lo stesso di non aver lasciato Lucky block Quanti cosi di ossidio Ne hai trovato te Fammi capire Io ne ho trovati tipo quattro E continuavo a Tipparmi fuori E motina Guardate che fashion Martina Con i pantaloni Di diamante E senza pettorina Con i pantaloni Ascellari di diamante Ma perché cammina Con la testa al contrario Raga Non lo so Io la vedo giusta Perché tu In realtà Quando vai verso il futuro Devi sempre dare uno sguardo Al passato Perché il passato È ciò che ti ha creato Quindi per questo Lei aveva la testa All'indietro Che capito Ma l'hai detto Killer Bunny Ti odio Ormai prenditela Dai ma ancora Dai Non si può Così Io non ce la faccio più Dai la tipiamo qui Che tanto Ma è tutta la gara Che faccio così Ragazzi Possiamo vedere che noia Che scende le scale Prima beve una pozione Di invisibilità Ah sì Sì Non si sa perché No Così mi vado più veloce Anche a quanto via Ah ok C'era un sacco di cose Per l'Aero Potion Guarda se l'avevi subito Sta pozione No Non ci credo Marci Non ci credo Marci Quanto l'hai tirata Vabbè Tiri tipo qua dai cavalli Dai Facciamo finta che hai Che hai rifatto le scale L'ultimo blocco Di Martina Le tiene Tiro Non ci credo Non ci credo Eh vabbè Sentite ragazzi Cioè Martina Neanche quarta Non pervenuta In questa lucky race Te la schiaccio io Guarda Te la schiaccio io Grazie Viene fuori Rambliss Viene fuori Fa niente raga Fa niente No dai facciamo così Tipiamola qua dai Dai tipiamola qua Schiaccia Grazie Brava Non è venuto fuori niente Perché Sì che è venuto fuori È stato Commoviente Questo atto Eroico In realtà era più roba di mob Quindi neanche In realtà sembra più disastrata La mia Però tu hai beccato più roba di mob Io ho beccato trappole Esplosioni Cosa così Quindi ragazzi Per questa lucky race È tutto Passate dai canali Di questi due E osservate i commenti Perché comparirà Un commento da Tina Quale? Non so di cosa parli Ma sono arrivata L'anello Allora Tu sei arrivata Terza In realtà non sei arrivata Però sei arrivata Terza E perdevi anche una posizione Quindi quarta Quarta non pervenuta Quarta su tre Ottimo Direi la penitenza più meritata Della vita Probabilmente questa Comunque ci vediamo presto Con altre lucky race Ragazzi lasciate un like E diteci se ne volete altri Mi raccomando Un saluto da Aaron Blaze Ciao Grazie a tutti